Buongiorno ragazzi, bentrovati al videocorso Arte e adesso iniziano le vacanze, l'estate ma noi non ci fermiamo, quindi farò una serie di lezioni di storia dell'arte che serviranno ai miei alunni per i compiti delle vacanze e a tutti quelli che vorranno cimentarsi un po' in questi argomenti, quindi come prima lezione parleremo di un grande, un mostro sacro della storia dell'arte, Michelangelo, potremmo parlare di tanti aspetti di quest'artista ma mi voglio concentrare sul Michelangelo scultore, che era poi l'arte che lui prediligeva, quindi cerchiamo di capire attraverso alcune sue opere che cosa esprimeva con la sua scultura e quali erano le caratteristiche che ne fanno un mostro sacro appunto. Allora iniziamo con il famosissimo David che è stato subito esposto davanti a Palazzo Vecchio di Firenze, quindi in Piazza della Signoria, oggi c'è una copia lì, l'originale si trova alla Galleria dell'Accademia, sempre di Firenze. Questa opera monumentale, nel senso che è molto grande e più che a grandezza naturale, è alto 4 metri e 10 e si tratta appunto di questo personaggio biblico che è David che sconfiggerà Golia e quindi farà vincere il popolo ebraico e darà la libertà a questo popolo. Quindi i filistei scelgono il gigante Golia, cioè un uomo proprio grande e grosso, molto forte, quindi simbolo di potenza ma anche di brutalità, mentre gli ebrei scelgono Davide che è un ragazzo, un pastore che viene però scelto diciamo da Dio attraverso questa selezione che viene fatta. Vincerà la intelligenza, ma soprattutto la forza morale di questo ragazzo che diventerà poi il re Davide, quindi da qui inizia un grande percorso per questo giovane. Non a caso viene scelta questa storia per rappresentare gli ideali repubblicani che hanno la meglio sulla tirannia e quindi mettendo questa statua davanti al palazzo civico della città possiamo considerare che c'è un messaggio. Il messaggio è quello della vittoria del popolo, quindi della repubblica contro la tirannia. analizziamo questa statua per capire attraverso la sua posizione, le sue caratteristiche che cosa vuole significare. Intanto viene rappresentato non Davide nel momento della lotta o della vittoria su Golia, ma nel momento precedente quando sta studiando l'avversario, quindi guarda verso sinistra e questo è una cosa anche simbolica perché a sinistra si intendeva ci fosse il male, quindi lui guarda e studia l'avversario e si prepara allo scontro che sarà uno scontro inusuale, cioè lui utilizzerà come arma semplicemente una fionda. Quindi nella mano sinistra tiene la fionda, che era un pezzo di pelle in cui si inseriva la pietra, si faceva ruotare e si lanciava quindi con la forza centrifuga questo sasso a velocità. Nella mano destra infatti tiene la pietra, quindi proprio per indicare l'intelligenza, l'arguzia e anche la purezza di questo ragazzo viene rappresentato anche nudo, come le statue antiche, le statue greche, quindi abbiamo un Davide che è pronto, i suoi muscoli sono tesi, si vedono le vene, nelle mani, si vede la prontezza, il momento precedente, l'azione in cui lui sta raccogliendo un po' le sue energie ed è pronto per agire. Dicevamo questa statua è molto alta e molto grande in generale, è stato anche difficoltoso scolpirla perché Michelangelo scelse un blocco di marmo che era stato scartato precedentemente da un altro scultore che l'aveva iniziato a sbozzare, perché era molto difficile da scolpire in quanto era alto e stretto, quindi in questa materia, con questa forma già così definita, Michelangelo vede all'interno la forma di David, in pratica Michelangelo diceva che lui liberava la figura dal blocco di pietra, lui se la immaginava già lì dentro e per forza di levare, cioè togliendo il superfluo, togliendo la pietra che imprigionava questa figura, lui tirava fuori il suo soggetto e in questo caso lui vede là dentro la figura di David e notiamo che questo giovane ha la testa leggermente più grande anche le mani delle proporzioni normali, questo per sottolineare il gesto delle mani, quindi attirare la nostra attenzione su questi particolari e la testa perché così in alto a 4 metri di altezza noi guardando dal basso la vediamo proporzionata, mentre se si vede alla stessa altezza si nota che è appunto un po' più grande come proporzione, tutto voluto perché Michelangelo conosce le leggi prospettiche e sa che man mano che vediamo le cose più lontane le vediamo più piccole, quindi tanti studi, tanta passione da parte di Michelangelo per tirar fuori questo personaggio simbolico dal suo blocco di pietra, la scultura per Michelangelo è appunto un liberare queste forme dalla roccia, lo vediamo nel San Matteo perché è un non finito, esistono anche queste sculture di Michelangelo che non sono completate, cioè la statua in parte è lavorata e in parte è ancora imprigionata nella roccia quindi il San Matteo lo vediamo solo dalla parte frontale che viene fuori, che sporge rispetto al blocco di pietra e questo per Michelangelo non era un gesto di trascuratezza, non voler finire le sue opere, ma è proprio un modo espressivo ci sono ad esempio delle altre opere famose fatte in questa maniera che sono i prigioni, che si trovano in parte a Firenze in parte a Louvre di Parigi, quindi sono delle statue che appunto rappresentando degli uomini schiavi dà proprio il senso del fatto che cerchino di liberarsi, di uscire fuori e quindi sono ancora più espressivi e più significativi in questa maniera, quindi è molto moderno Michelangelo in questo, cioè nel non voler per forza terminare la sua opera se questa ha già un suo significato e esprime già quello che deve a questo proposito possiamo confrontare la pietà famosa di Michelangelo che si trova a San Pietro in Vaticano e questa pietà è un'opera giovanile che è stata fatta praticamente quando Michelangelo aveva solo 24 anni è l'unica opera che lui ha firmato, perché essendo così giovane e ancora praticamente sconosciuto temeva che qualcuno potesse prendere il merito e usurpargliela in qualche modo quindi questa pietà che è molto rifinita, perfettamente levigata è ben diversa dall'ultima pietà che lui fece e che non venne completata anche perché poi lui morì, quindi era già quasi sbozzata e lasciata il marmo grezzo, ha un'espressività diversa da quest'opera giovanile, questo per capire è che nella vita di Michelangelo ci sono anche dei cambiamenti, un artista non è sempre uguale a se stesso perché ha raggiunto il successo e allora non cambia più il genere di opere che esegue, ma invece c'è un'evoluzione come nella vita dell'artista anche nella sua produzione artistica, quindi l'opera giovanile, la pietà che si trova in Vaticano ha una forma piramidale perché la Madonna è seduta e ha un ampio vestito che permette di accogliere la figura sdraiata di Gesù, le due figure hanno praticamente la stessa età, cioè Maria non viene rappresentata anziana, diciamo così, avendo un figlio già di 33 anni, ma con un viso giovanile, Michelangelo vuole esprimere la perfezione in quest'opera, la perfezione anche divina di Gesù e di conseguenza anche di Maria, per cui non rappresenta il passare del tempo, ma è come se Maria fosse fuori dal tempo, in queste sembianze così giovanili, deve rappresentare la sua purezza, la sua bellezza dell'animo e quindi viene rappresentata con un volto giovane e per accogliere appunto tutto il corpo di Gesù ha questo abito molto ampio, che dà anche una stabilità alla scultura, quindi ci dà la possibilità di vedere l'equilibrio di queste figure che è perfetto, cioè non c'è nulla che noi potremmo cambiare, il braccio di Gesù abbandonato che scende, viene ripreso, vedremo più avanti da altri artisti che vogliono rappresentare proprio questa sensazione di abbandono che dà la morte, quindi questo braccio che scende senza vita, sotto il braccio si intravede la mano di Maria, che sembra proprio affondare nella carne di Gesù come se fosse morbida, mentre ricordiamo è marmo, la carne, il panneggio, tutto ha una morbidezza che sicuramente la pietra dura a noi non ce la potrebbe dare come sensazione, quindi c'è un lavoro molto raffinato. Possiamo dire ancora di quest'opera che appunto dicevo è l'unica che è stata firmata da Michelangelo, dove l'ha firmata? Nella fascia che passa in obliquo diagonalmente sul petto di Maria, quindi anche in bella vista c'è questa firma di Michelangelo. Il chiaroscuro di quest'opera è molto delicato, molto morbido e c'è una luminosità data appunto dalla luce che si riflette sulle parti lisce e levigate di quest'opera. Al contrario la Pietà Rondanini ha delle forme molto più grezze se vogliamo, però molto espressive. C'è la Madonna in questo caso in piedi che sorregge con un abbraccio Gesù che naturalmente ha le gambe piegate perché è senza vita e in pratica questo abbraccio ci dà il senso proprio dell'amore ma anche della fatica, quasi la fatica ad accettare questa situazione. È un'opera incompiuta, alcune parti sono appena abbozzate, però è sicuramente molto molto espressiva e come dicevo è l'ultima opera che noi conosciamo di Michelangelo. Bene, io spero di avervi trasmesso un po' dell'amore per queste opere di Michelangelo che io ho e che sicuramente si sarebbe potuto parlare molto più a lungo e approfonditamente, però non voglio sovraccaricarvi, diciamo che può bastare, poi magari se ci sarà la possibilità torneremo su quest'artista così importante, tanto importante che l'argomento successivo che tratterò è quello del manierismo, cioè di quegli artisti che lavoravano ormai alla maniera di Michelangelo, era lui che aveva stabilito un livello artistico e tutti volevano un po' fare qualcosa di nuovo e di diverso, però ne erano profondamente influenzati. Bene, io allora per ora vi saluto, vi do un grosso bacio e alla prossima! Ciao ragazzi, iscrivetevi! Ciao!